Mancano solamente le porte alle stanze, i banchi e le sedie, ma per il resto tutto è pronto nell'ala del liceo Luzzati di Chiavari, destinata per l'anno scolastico che prenderà il via tra pochi giorni ad ospitare le nuove classi della succursale del liceo linguistico da Vigo. Portati avanti nel corso dell'estate della città metropolitana di Genova, i lavori hanno rinnovato gli ambienti, realizzato tre nuovi bagni, di cui uno per disabili, e abbattuto le barriere architettoniche presenti, ricavando, dove prima si trovavano i laboratori di chimica e oreficeria dell'ex istituto d'arte, quattro aule e un'aula professori. Queste aule sono state divise tramite pannelli in cartongesso e hanno permesso quindi di realizzare quattro ampie aule che ospiteranno comunque tutti gli studenti. E' stato anche realizzato un ingresso separato, questo per dividere i flussi tra il Luzzati e il Davigo. Certo, per mantenere separati gli ingressi, quindi non avere un'interferenza tra entrate e uscite dei studenti differenti, questo sarà il nuovo ingresso per quanto riguarda l'istituto del Davigo, che ovviamente abbiamo dovuto realizzare una rampa interna e esterna per permettere anche l'accesso e l'uscita dei disabili, cosa che grazie all'istituto Luzzati permetteremo l'utilizzo anche di una porta secondaria che parte direttamente dal parcheggio esterno, in modo tale che un disabile possa entrare dalla parte opposta, lato est dell'edificio, in modo tale da non dover passare tramite le scale. Uno spazio anche per i professori, oltre alle aule? Sì esattamente, comunque vi era già uno spazio adibito a magazzino, l'abbiamo riconvertito in spazio destinato ai professori, quindi con linee telefoniche, linee dati e prese ovviamente elettriche, in modo tale che i professori che possano interfacciarsi con le varie aule, avere delle pause, possano avere comunque uno spazio dove essere posizionati.